Gio Daniel, Gio Jacopo, dove mi portate al mare quest'estate? E beh, ecco, noi veramente pensavamo... Mykonos, Ibiza, Miami Gatteo Mare Gatteo Mare Beh, ma comunque è un posto... Io devo farmi le foto da influencer e voi mi portate a Gatteo Mare Vabbè Alessia, hai 9 anni, dove vuoi andare? Basta mettere pensionati Preferisci Cattolica? Io devo andare a ballare, discoteche, serate, after Tirate fuori il cash, Marcioni Alessia, non sei tu che decidi E invece sì, volevo struccarvi la vacanza Ma visto che siete due poveri, ve la pago io, dai Come ce la paghi tu? E ma con che soldi? Ciudete le valigie e la vostra Sugar Mommy vi porta a Dubai Sfigati! Ok, Sugar Mommy! Vado a fare le valigie!